Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati su Jump Force con un nuovo episodio della serie. Mi raccomando, recuperate gli episodi precedenti se non li avete ancora visti, lasciate un mi piace. Ora, fatevi sentire al massimo con i like ed iscrivetevi al mio canale, altrimenti vi perderete tutti i prossimi episodi, ma soprattutto vi perderete anche i video sulle mod di Jump Force. Poi arriveranno le battaglie con Francesca, tantissima roba. Ma vediamo subito il mio Joseph, gli ho cambiato i vestiti, gli ho messo quelli di Trunks e gli ho messo anche la spada di Trunks. Poi gli ho fatto anche un tatuaggio che è quello di gara, diventa sempre più figo e tutto ovviamente dipende da voi, perché siete voi a scegliere il look di Joseph su Instagram tramite i sondaggi. Quindi se anche voi volete decidere, venite su Instagram e votate tutti i sondaggi. Ma entriamo nell'azione di gioco. Ho fatto un paio di missioni secondarie che mi permettevano di sfidare di nuovo Barba Nera, che poi purtroppo scappava per l'ennesima volta, e poi ho sfidato nel mondo di Naruto, nel villaggio della foglia, Kaguya. Ad eccoci qua ragazzi, che succede? Ad eccoci qua ragazzi, Che succede? Sì, non è così facile. Quindi si combatte ed è grossissimo ragazzi è un gigante Diventa cenere Vediamo di fare delle belle combo ragazzi perché da come vedete è tosto Devo fare di tutto per non permettergli di attaccare anche se sarà veramente difficile Andiamo di Kamehameha Addirittura si teletrasporta lui Guarda guarda che arrivano gli altri Venom No ragazzi Venom li butto giù subito Io volevo combattere assolutamente con Kane Che si rivelerà essere probabilmente un grandissimo combattente Ammesso che ritorni in battaglia Per ora aveva preso solo schiaffi eh diciamolo Vediamo se riesco anche a colpire con questa Kamehameha Per ora non ci ha fatto molti danni Sono sincero ragazzi i Venom, Kane compreso Sono stati un po' debolucci ma aspettavo qualcosina in più eh da loro A parte questo colpo ritorna Kane Mamma mia ragazzi si stava caricando Aveva un'aura più che oscura Grazie a tutti Grazie a tutti ... Sì, non è vero. Sì, non è vero. Ci sono tutti si集ati, non è vero. Non è vero. Ma non è vero. Ma non è vero. Non è vero. Il gomino, il gomino! Il gomino! Il gomino! Mamma mia ragazzi mi sto casando No ragazzi volevo un filmato molto più lungo Molto più avvincente La piega era buona Vediamo Grazie a tutti Stiamo soffrendo però ragazzi dobbiamo intervenire Diamo due schiaffi a Kayn ragazzi se li merita oh No ragazzi dovevo Combattere con loro Capitolo 7 creazione Ed eccolo qua di nuovo Kayn ancora con quel libro Ma siamo sicuri Che quello sia Kayn No non è Kayn Ora dobbiamo assolutamente dirigerci a New York Su consiglio del direttore Perché a quanto pare ci sono tanti Venom E tutti stanno già combattendo Contro di loro E a quanto pare c'è un po' di gente messa male qui E a quanto pare ci sono Oh, arriviamo noi Bene E vanno a terra Bene piccolo, bravo E bravo anche il nostro Joseph Eh, che figo Altri Venom? Ragazzi, se ci sono altri scontri con i Venom li salto Perché sono troppi Va bene, facciamo che Joseph ha già vinto Perché altri scontri con i Venom sono eccessivi, eh Ok, intervengono Goku, Naruto e Luffy Ed eccoli qua Grandissimi SON! Ma era vestito come sempre Ok, questa cosa è figa Devo ammettere che è molto figo Dai, questo è figo, questo sì Sto ora affrontando i Venom, ragazzuoli Ultimissimo colpo, è andato a buon fine Ho preferito però saltare la battaglia Perché nel gioco ci sono troppi scontri con i Venom Tutto bene quel che finisce bene? Eccolo E qui SON! 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 io che voglio il primo il primo il primo il primo è il primo il primo il primo si allora si C'è vero che è vero. Si combatte. Se devo essere sincero, le motivazioni di Kane non mi convincono tantissimo. Non mi sembra una reazione così valida o credibile questa. Cioè, nel senso, capisco che tu un tempo hai creduto nella giustizia, capisco che hai perso delle persone e quindi giustamente distruggo tutti gli universi esistenti. Capisco che sei arrabbiato con l'universo, però Kane, stai tranquillo, cerchiamo... col tempo le cose passano. Si può risolvere anche in altro modo. Distruggiamo l'avversario. Ora stiamo facendo un ottimo lavoro. Si fa la Suprema, ma io riesco a pararmi, no? La Suprema è stupenda. Quella che fa è stupenda, ma si becca un pugno in faccia. Bene così, ci siamo parati anche al momento giusto, mi è piaciuto. Gli facciamo anche sto Rasengan. Un ultimo Final Flash lo faccio adesso, ragazzi. E credo che Kane sia stato completamente distrutto. Bene così. Battaglia tosta, però poco equilibrata. Il nemico con due o tre colpi ti butta giù subito. E tu per buttarlo giù devi dargliene molti, ma molti di più. E ora, caro Kane, che succede? Ma che ci fa qui Glover? Ma che ci fa? Quindi ragazzi, il direttore Glover è sempre stato malvagio dall'inizio Prometheus, lo chiede sempre Prometheus? Che cosa stai facendo? C'è questo, ma è vero. Questo è vero. Non mi sembrava? Perché ho conosciuto l'Ambra? Perché ho preparato l'Ambra? Perché ho preparato l'Ambra? La risposta è semplice. Perché ho avuto 10 persone di Ambras Brutta storia, e ora? Mi... 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 No... No, addirittura No, difendiamolo È stato colpito, ma no Quindi quello sarà il boss finale Anche se ora c'è Galena Questo episodio si conclude Ma il finale è davvero vicinissimo In ogni caso, il prossimo episodio Non appena disponibile, come sempre Lo troverete qui sotto in descrizione Iscrivetevi ora al mio canale Se non l'avete ancora fatto cliccando qua al centro Guardate altri video cliccando qui a destra e sinistra Quindi alla prossima, ciao!